Sono stata molto contenta quando Pinuccia mi ha chiesto di moderare questo incontro. Io, diciamo, non sono esperta dell'argomento, però è una cosa che fin dall'inizio, fin da quando ne ho sentito parlare per la prima volta, mi ha interessato. Diciamo che veramente a me interessa molto l'argomento fin da prima che si parlasse di spinta gentile o di naggio, perché io ho sempre avuto delle grandi difficoltà a convincere gli altri delle mie idee. Quindi a un certo punto, mi sembra nel 2005, in libreria ho visto un bellissimo libretto che si chiamava Piccolo Trattato di Manipolazione e poi sotto c'era scritto A uso degli onesti. Allora, chiaramente l'ho subito comprato perché pensavo che avrei trovato lì delle piccole tecniche per convincere gli altri, diciamo in maniera onesta, ma comunque un pochino a mio vantaggio, della giustezza delle mie idee. Questo libretto l'ho letto, è un libretto molto interessante, molto divertente, però di questa cosa mi ha colpito soprattutto il fatto che era uso degli onesti. Quindi ho cominciato a ragionare sul fatto che quando ci sono delle cose da fare, che sono delle cose giuste, si può in qualche modo orientare l'opinione pubblica a farle, cioè senza secondi fini, non per vendere uno shampoo o per convincere le persone a fare delle cose che non vogliono fare. Quindi dopo un po', dopo qualche anno, diciamo una decina d'anni, ho visto il libro di Sustain sulla spinta gentile e anche quello l'ho subito comprato. E ho capito che in qualche modo questo libro riprendeva il fatto che le persone che devono decidere certe cose o hanno dei blocchi cognitivi o hanno dei vincoli o comunque hanno dei preconcetti e che queste piccole tecniche, piccole e grandi tecniche, sono finalizzate a fargli prendere le decisioni che fanno loro bene. Qualcuno l'ha chiamato paternalismo libertario, qualcuno l'ha chiamato paternalismo in qualche modo, manipolazione amichevole o qualcosa di questo genere. Adesso Irene si spiegherà esattamente com'è. Cos'è? È una cosa molto interessante, non se ne parla abbastanza e quando se ne parla la maggior parte delle persone non sa cosa sia. Faccio solo notare due cose. Uno, che con Irene ci conosciamo e facciamo economia circolare da ancora prima che si parlasse di economia circolare in termini rigorosi perché ci siamo conosciuti intorno al 2010 e già ci occupavamo di queste cose senza sapere che fosse economia circolare. Questa è molto interessante. E poi del fatto che sulla copertina di questo libro, della spinta gentile, c'è un elefante che spinge un piccolo elefantino con la proboscite e lo spinge gentilmente a fare le cose. Allora si chiama nell'ambito del rapporto femminile a queste tematiche, io penso che l'elefante sia un'elefantessa e che abbia questo modo per spingere gentilmente il piccolo elefantino, che a questo punto potrebbe essere anche un maschietto o anche una femminuccia, a fare qualcosa senza imporglielo, soltanto spingendolo leggermente, dandogli un colpetto. Allora adesso passo la parola a Irene che ci spiegherà bene questa cosa perché lei è veramente un'esperta. Grazie a te Irene. Giovanna, grazie. Meno male che non ne sai nulla, nel senso che in realtà mi sembra che tu ne sappia comunque abbastanza, se non altro perché questo è un argomento di cui pochissime persone sono a conoscenza e quindi è una materia abbastanza, diciamo, poco nota, ecco, per non dire confusa. Io mi ci sono appassionata da non tantissimo tempo, diciamo da qualche anno. Da qualche anno e in particolare da quando ho scoperto questo libro che tu hai citato, scritto da i due economisti americani, Tyler e Sunstein, che lo hanno identificato, lo hanno celebrato, lo hanno fatto nascere questo strumento della spinta gentile. Nel 20, un pochino prima dell'inizio della pandemia e del lockdown, mi hanno chiesto di fare un TEDx. La qualcosa mi ha fatto molto piacere e ho deciso di sfidarmi nell'affrontare questo argomento del Nudge come il tema da gestire nell'ambito di questo TEDx. E devo dire che una serie di cose che poi sono successe dopo mi hanno un po', non dico cambiato le dita, però mi hanno spinto, a proposito di spinte gentili, a navigare sempre di più questo argomento, questo strumento, un po' perché mi sono resa conto che davvero è molto poco conosciuto e un po' perché l'ho trovato molto generativo e molto vicino a tante cose che nella vita fino a quel momento avevo fatto, avevo provato a fare e a cui non avevo dato quell'etichetta lì, cioè il cosiddetto behavioral design, cioè la progettazione dei comportamenti. E invece leggendo questo libro ho capito che per andare verso la transizione ecologica come la chiamiamo adesso, o l'economia circolare come si chiama da qualche anno, i nostri comportamenti devono necessariamente cambiare e perché questo accada non basta sapere le cose, alle volte non basta neanche averne consapevolezza, ma bisogna un po' avere il coraggio di usare questi strumenti che tu hai definito di manipolazione in grado di orientare in maniera un po' più appropriata, in maniera un po' più precisa, quelle buone azioni che ci stanno a cuore. Allora, proverai a fare una condivisione schermo perché magari questa cosa ci aiuta tutti a seguire meglio questa chiacchierata che vi prometto sarà concisa e leggera. E metto tutto in modalità schermo pieno perché così almeno vediamo tutti meglio. Questo è il link al TEDx che ho fatto nel 2020 e che comunque spiega abbastanza diverse cose. Questo è il libro con l'elefantessa che spinge l'elefantino che esce negli Stati Uniti nel 2008 e che di fatto già dà una definizione di nudge, cioè di spinta gentile, perché poi la sua traduzione in italiano è questa, spinta gentile, definendola qualsiasi aspetto dell'architettura delle scelte che altera il comportamento degli individui in maniera prevedibile, senza proibire alcuna opzione o modificare in misura significativa gli incentivi economici. Inoltre deve poter essere evitato facilmente e senza costi aggiuntivi, cioè sostanzialmente significa che non deve diventare un fango, ma deve essere una spinta. Quindi non possiamo usare strumenti economici, non possiamo usare soldi come modalità incentivanti, dobbiamo lasciare assolutamente libero l'individuo di decidere sì o no, perché non ci deve essere nessun meccanismo costrittivo e soprattutto si chiama Nudge nel momento in cui prevede l'attivazione di un comportamento che genera un beneficio per l'individuo o per la collettività socialmente condivisibile, per cui come dicevi tu prima, io non posso usare delle tecniche di questo genere per venderti un biglietto aereo con lo sconto del 30% entro la mezzanotte o uno shampoo. Altrimenti non si chiama Nudge, si chiama neuromarketing e quella è tutta un'altra storia. I due americani, quindi gli autori del libro, nel 22 o 23, in Italia esce nel 23, tirano fuori la seconda edizione, quella che loro definiscono la conferma, ma che chiariscono subito essere la loro ultima fatica, cioè l'edizione definitiva. Non ne vogliono più sapere di ritornare a rimettere in ordine e aggiornare il tutto, perché la questione è abbastanza ricca e complessa. Io definisco la spinta gentile un suggerimento comportamentale a cui diventa difficile resistere, ma a cui deve essere sempre possibile resistere per lasciare l'individuo nella libertà di aderire o no. Lo possiamo anche definire un modo per di fatto ridisegnare la nostra attenzione e visto che esiste, e lo sappiamo bene, un'industria dell'attenzione, quella che in qualche modo cerca di catturare la nostra attenzione in tanti modi possibili, chiedendoci di fare una serie di cose, perché non scommettere sul fatto che si possano usare delle tecniche che funzionano per smettere di sabotare la nostra attenzione, e quindi evitare di finire nel magnifico mondo delle distrazioni e fare, mettere in atto quei comportamenti che ci stanno a cuore. Ripeto, a condizione che però ci sia un beneficio individuale o collettivo. Da che cosa nasce tutto questo? Nasce dal fatto che noi prendiamo centinaia e migliaia di decisioni consapevoli o inconsapevoli ogni giorno per tutta la vita. Per cui prendere decisioni è parte integrante della nostra esperienza, alcune le facciamo in automatico, altre più complicate, tipo, che ne so, scegliere dove andare in vacanza, oppure che automobile comprare, oppure che gestore di energia scegliere per riscaldare la casa. Chiedono dei passaggi, chiedono delle attenzioni diverse. Kahneman, questo psicologo famosissimo, è diventato ancora più famoso quando ha scritto nel 12 Pensieri lenti, pensieri veloci, dice che il cervello in alcune situazioni si muove più automaticamente, in altre situazioni si muove in maniera più ponderata. Vedete gli esempi che ho fatto poco fa. Ed è quando decide in maniera più automatica che entrano in gioco delle distorsioni cognitive, quindi degli errori praticamente cablati nel nostro cervello, che ci portano a sbagliare. Perché siamo convinti di decidere in maniera, siamo convinti di decidere nel miglior modo possibile, mentre invece queste deviazioni che si manifestano in maniera sistematica e quindi prevedibile, siccome esistono e sono di fatto cablate nel nostro cervello, producono errori. Anche perché il cervello fondamentalmente cerca sempre di usare la minore energia possibile per funzionare al meglio. Quindi noi ci fidiamo dei nostri istinti, delle cose che sappiamo o che presumiamo di sapere, e non andiamo più di tanto a verificare gli inghippi, le trappole che ci possono essere dentro un'informazione, una notizia, un dato, eccetera. Di fatto entrano in gioco preferenze, credenze, quello che peraltro si chiama anche il bias della conferma, valori a cui siamo particolarmente affezionati e che quindi tendiamo a privilegiare ogni volta che dobbiamo decidere un percorso da fare. Ed è questa la ragione per cui le spinte gentili funzionano. Perché di fatto le spinte gentili, sapendo quali sono queste deviazioni, riescono a costruire una nuova scelta di prodotto, di servizio, di strada da percorrere, eccetera, che ci porta e ci orienta nella direzione di chi ha progettato quella scelta, quindi del cosiddetto architetto della scelta ed è proprio quell'architettura della scelta che di fatto si chiama Nudge. Allora, adesso noi non abbiamo tantissimo tempo, però possiamo provare ad esplorare alcune di queste deviazioni cognitive che particolarmente efficaci. Una è quella detta il bias della lost adversion. Siamo molto più motivati e attenti rispetto al rischio di perdere qualcosa che ha il vantaggio di poter guadagnare qualcosa. Immaginatevi la scena di quando andiamo a fare la spesa in un supermercato, inseriamo un gettone nel carrello e poi facciamo di tutto per riportare quel carrello al suo posto perché quel gettone è nostro, quell'euro messo dentro quella fessura è nostro e l'idea di perderlo ci spinge a fare chilometri o centinaia di metri no chilometri centinaia di metri dentro i parcheggi di un grande supermercato sì e questa è la ragione per la quale anche un contenitore cauzionato genera una risposta di restituzione di quel contenitore a differenza di un contenitore non cauzionato che può diventare ovviamente usa e getta senza nessun rimpianto. Hanno fatto un esperimento nel 2017 a San Jose nel Texas dove c'era un bel problema di dumping e quindi di rifiuti dispersi da parte di cittadini maleducati e hanno preso due gruppi di cittadini 3280 se non ricordo male a uno hanno mandato una carta dunque a uno non hanno mandato assolutamente niente perché gli faceva la gruppo di controllo a uno hanno mandato una cartolina in cui gli dicevano comportati bene perché questa città spende 87 dollari ogni volta che qualcuno smaltisce in maniera impropria oggetti di grandi dimensioni e ad un ultimo gruppo hanno detto sei stato selezionato per ricevere una rimozione gratuita di un oggetto di grandi dimensioni nel corso dei prossimi tre mesi il gruppo di controllo ha continuato a comportarsi come se nulla fosse perché tanto quello non aveva ricevuto nessuna cartolina quelli che avevano ricevuto la prima hanno migliorato i loro comportamenti di più 70% ma quelli che hanno ricevuto la seconda cartolina hanno migliorato i loro comportamenti di più 147% il che vuol dire che l'idea di essere stato selezionato attiva in te l'avversione alla perdita al rischio di perdere quel vantaggio che ti viene dal fatto che sei stato selezionato questa è un'applicazione concreta di che cosa significa usare il bias dell'avversione alla perdita un altro bias abbastanza potente è quello del framing cioè di come noi andiamo a raccontare una cosa per metterci per mettere gli altri nelle condizioni di crederci e quindi di comportarsi di conseguenza se io ti dico che bere fa bene e il mio obiettivo è che tu beva di più ti posso sicuramente mandare degli stickers digitali fisici in cui ti racconto quali sono i benefici del bere acqua e te li metto graficamente in varie versioni ma questi sticker questi sticks di fatto che cosa fanno aumentano se avrai voglia e pazienza nel leggerli la tua conoscenza su questo argomento ma non necessariamente ti porteranno ad agire di conseguenza il framing allora diventa il bias del framing può diventare uno strumento di progettazione della nostra attenzione e allora a quel punto mi posso inventare un contest che aiuti le persone a bere di più e facciamo una gara a chi beve di più oppure uso un'app che misura i tuoi comportamenti virtuosi e quindi anche quanto bevi oppure mi invento degli appuntamenti per raccontarti e promuovere la bontà dell'acqua oppure meglio ancora ti regalo una borraccia ce ne sono alcune come questa che riesce addirittura a darti dei segnali sulla su quanto attraverso un microchip nel tappo che praticamente si illumina per dirti di bere di più se hai bevuto troppo poco trasforma la quantità di acqua che hai bevuto in credit di blockchain perché poi c'è qualcuno che la sponsorizza e che quindi finanzia una raccolta di plastiche in giro per il mondo questo è uno strumento di design dell'attenzione che funziona più di uno stick come quelli che abbiamo visto prima un esempio carino che faccio spesso riguarda questa una riflessione che ho fatto un po' di tempo fa guardando una serie su Netflix che si chiama Made e mettendola poi in relazione con una onlus che si chiama Progetto Abito che sta a Torino e che riguarda il tema degli abiti usati che vengono messi a disposizione oppure anche messi in vendita per aiutare chi ne ha bisogno ma anche per favorire il second hand e quindi il riutilizzo di questi abiti se io la vendita dell'abito usato la costruisco inventandomi un punto allestendo un punto vendita in condizioni perfette e non in condizioni povere o sacrificali come spesso avviene in alcuni posti dove si vendono gli abiti usati il mio processo di avvicinamento il mio avvicinamento a questo tipo di shopping e quindi a questo tipo di esperienza migliora e migliora anche la mia disponibilità a cedere abiti da da destinare al second hand oltre che l'intercettazione del second hand e quindi siamo nell'economia circolare un altro bias particolarmente potente è quello detto della preferenza per lo status quo che significa significa che quando una una condizione di comportamento ci viene tra virgolette messa a disposizione come preimpostata subiamo subiamo una sorta di suggestione che ci porta a sceglierla invece di cambiarla anche per fare la minor fatica possibile il famoso discorso che facevo prima sul cervello pigro su questo bias sono state fatte centinaia di studi uno del 2015 ha preso in esame 40.000 utenze domestiche di un paese in Germania a cui sono stati sottoposti dei contratti di energia rinnovabile più costosi di quelli da fonti fossili dove una certa quantità di cittadini aveva la possibilità di cliccare su un pulsante per passare alla fornitura rinnovabile l'altra metà di cittadini invece riceveva un'informazione che gli diceva dal mese prossimo tu diventi rinnovabile ma se vuoi rimanere con la fonte fossile puoi sempre cliccare qua la prima scelta che leggete impone un gesto attivo cioè il fatto che io per passare alla rinnovabile devo figiare devo fare un passaggio devo fare un gesto la seconda no la seconda significa che se voglio restare con il fossile devo fare quel gesto e il risultato è stato sorprendente nel senso che al primo clic hanno aderito sette persone al secondo clic hanno aderito settanta persone nonostante la rinnovabile fosse un po' più costosa della fossile ora su questo tema della preferenza per lo status quo ripeto ne sono stati condotti infiniti abbiamo poco tempo e quindi vado veloce quali sono gli ingredienti che un progettista di spinte gentili ha o dovrebbe potrebbe utilizzare stile cassetta degli attrezzi nel momento in cui si trova a operare su un contesto chiarisco che un contesto può essere privato o pubblico è chiaro che nell'area delle politiche pubbliche tante cose che hanno a che fare con la sostenibilità avrebbe senso poterle mettere in atto anche con la spinta gentile oltre che con i normali strumenti non i normali i tradizionali strumenti tipo le norme le leggi gli incentivi le sburocratizzazioni le sanzioni le multe eccetera anche perché abbiamo capito che non sempre funzionano in maniera efficacissima quindi la spinta gentile in questo senso è uno strumento integrativo tra gli ingredienti più adoperati per metterla in atto ci sono sicuramente le informazioni quindi la capacità di costruire un messaggio organizzato in maniera da usare un po' di bias tipo quelli che abbiamo visto prima io dico spesso che però alle volte la sola conoscenza non basta a cambiare i comportamenti delle persone nel senso che alle volte la comunicazione se non tocca la parte emotiva la componente emotiva non smuove i nostri comportamenti e cito spesso questa piccola parabola che però è vera e che riguarda l'esperienza di un americano si chiama John Steiner lavorava presso un grosso gruppo che aveva varie succursali negli Stati Uniti e ad un certo punto un giorno si rende conto che avrebbe potuto far risparmiare alla sua azienda circa un miliardo di dollari in cinque anni sugli acquisti sugli acquisti che venivano compiuti a suo dire a suo osservare in maniera poco organica però John Steiner ha un problema come fare a convincere i suoi capi della necessità di rivedere le loro politiche di acquisto cosa che richiede ovviamente fatica nuove procedure eccetera e decide di usare uno strumento più emotivo che non comunicativo lui attraverso una stagista prende un item che sono i guanti usa e getta e osserva e cataloga la quantità di guanti diversi che l'azienda compra nelle varie otto succursali scopre che i guanti usa e getta che quella fabbrica che quell'azienda compra appartengono a 424 tipi diversi e lui li fa etichettare tutti con il loro prezzo scoprendo che si va dai 5 ai 17 dollari di differenza di prezzo per prodotti anche estremamente simili allora invece di presentare ai suoi capi delle tabelle Excel che fanno vedere 424 non categorie singoli singole tipologie di guanti comprati a prezzi diversi lui su una scrivania di quelle immense di quelle dove si fanno riunioni perfette tra i grandi capi che decidono sistema i 424 tipi di guanti con un cartellino che indica il loro prezzo quindi usa una tecnica che praticamente diventa una sorta di cazzotto nello stomaco e la cosa piacque talmente tanto a chi decideva che quella immensa tavola piena di guanti diventò una mostra itinerante che fece il giro di tanti stabilimenti ma la cosa più importante è che i suoi capi decisero di cambiare le loro politiche di acquisto e quindi John Stagner riuscì a fare quello che voleva questo è a mio avviso un esempio di che cosa può significare costruire una comunicazione che riesce a toccare non soltanto le nostre corde cognitive ma quanti John Stagner ci sono tra noi per riuscire a trovare quella chiave giusta di accesso ai nostri meccanismi decisionali probabilmente non tantissimi Maya Angelou scrittrice poetessa dice questa cosa molto bella ho imparato che le persone possono dimenticare quello che hai detto possono dimenticare quello che hai fatto ma non dimenticheranno come li hai fatte sentire ecco questa potrebbe essere una delle chiavi riuscire a far sentire l'importanza di una cosa al di là delle parole un altro strumento che può servire per attivare comportamenti quindi stile cassetta degli attrezzi è la riprogettazione di un luogo o di un prodotto questo è uno dei prodotti in agio più divertenti che esistano è una è una sveglia una sveglia che quando suona cammina perché il suo obiettivo è farsi fermare e quindi assicurarsi che chi si deve svegliare sia sceso dal letto questo per darvi un'idea di che cosa è all'ennesima potenza un oggetto nudge cioè un oggetto che attiva un comportamento vero non a parole se non la prendi quella continua a suonare un altro naggio di prodotto divertente è quello che ha messo in piedi questo produttore di biciclette che aveva un problema nella spedizione cioè perdeva migliaia di dollari perché i corrieri non rendendosi conto che la bicicletta poteva anche subire dei danni lo trasportavano senza accortezze e quindi un quarto di quei prodotti di quelle biciclette arrivava danneggiato e poi danni nella richiesta di restituzione eccetera allora lui si inventa semplicemente un un packaging diverso e la forma e sulla scatola quindi che trasporta quella bicicletta ci mette un monitor di televisione quindi ti fa credere che lì dentro ci sia una televisione e che quindi quella scatola deve essere trattata con più delicatezza e questo che cosa ha fatto ha semplicemente modificato la grafica di una scatola però la modificazione di quella grafica attiva un comportamento diverso da parte di chi fino a al giorno prima faceva danni quando si parla di spreco di cibo una delle tecniche sperimentate in vari e in tanti modi è quella che vede nei bars e service nelle menze aziendali o scolastiche è la riduzione del piatto che ti devi riempire quanto più piccolo è tanto più è probabile che non getterai cibo e mangerai tutto quello che c'è nessuno ti impedisce di alzarti per prenderne dell'altro però parti da un piatto più piccolo per evitare il rischio la norma sociale un altro ingrediente potentissimo quello che prevede il fatto che noi siamo molto spinti e siamo molto motivati a guardare quello che fanno gli altri e quindi in qualche modo ad allineare i nostri comportamenti a ciò che vediamo intorno a noi soprattutto ad opera di persone a noi simili questa è una piccola storia molto carina che si svolge una vita fa in una palestra di nuoto agonistico dove ci sono dei ragazzi giovani molto giovani tra i 9 i 16 anni che non si impegnano a sufficienza quindi arrivano in ritardo non finiscono le vasche si assentano e hanno un allenatore che ad un certo punto non sa più che pesci prendere e questo signore si inventa il tabellone il tabellone con il registro delle presenze e per ogni sezione di allenamento otto di loro cioè i quattro peggiori e i quattro migliori dovevano scrivere su questo tabellone quante vasche avevano fatto in quella sessione tutto questo va avanti per 11 mesi e il risultato è che l'assenteismo si è ridotto di quasi la metà i ritardi si sono ridotti del 63% e soprattutto il 27% di vasche in più sono state compiute da questi ragazzi che non si sono mai lamentati di questo tabellone ma ne sono rimasti contenti soddisfatti perché hanno capito che quel tabellone gli aveva aiutati a cambiare il registro questo significa riuscire a sviluppare dei comportamenti migliori semplicemente evidenziando che cosa fanno le persone e quindi mettendoli nella condizione di raccontare e quindi di dire quali sono le loro performance da questo punto di vista ah vabbè sì volevo parlarvi dell'energia ma l'energia ve la racconto dopo questa tecnica qui è stata utilizzata e viene utilizzata tantissimo per favorire negli hotel il riutilizzo degli asciugamani ed evitare che dopo un uso vengano abbandonati per terra sono stati condotti degli esperimenti in cui vengono messi dei cartelli semplici che dicono riutilizzare gli asciugamani è un gesto piccolo ma utile per risparmiare risorse naturali quindi contribuisci anche tu mentre se li lasci per terra verranno sostituiti altri cartelli quelli che attivano la norma sociale ti dicono di fare la stessa cosa però raccontandoti che per esempio il 75% degli ospiti contribuisce a questa richiesta e a questo nuovo impegno di fatto evitando di abbandonarli per terra allora sapere che il 75% degli ospiti si comporta bene spinge quante più persone a comportarsi meglio insomma il cartello giallo funziona meglio del cartello azzurro e su questo ripeto fior di esperimenti mostrano anche tutta una serie poi di differenze che avvengono attraverso l'uso di sfumature del linguaggio differenti nel scrivere questi cartelli da mettere nelle stanze degli hotel una delle cose che mi ha divertito di più scoprire a proposito di risparmio energetico è la storia di Opower una società che nasce negli Stati Uniti nel 2007 ma che grazie a uno dei suoi due fondatori quello questo Alex Lasky che peraltro ha fatto un bellissimo TEDx nel 2013 di fatto ha dimostrato che per aiutare le persone a risparmiare energia basta fargli vedere che cosa succede ai loro vicini di casa cioè a quelli che loro hanno accanto nei paraggi perché loro ti inviano delle bollette dei report che di fatto ti dicono quanto stai consumando qual è la media della comunità a cui tu appartieni e quindi con anche un confronto con quelli che si comportano meglio e poi con degli smile che valutano il tuo consumo di energia in base al fatto che tu sia trimestralmente eccetera più o meno virtuoso questa operazione in sei anni non questa operazione l'uso di questo strumento da parte di eopower ha generato sui propri utenti in sei anni un risparmio di 2,5 teravattora di corrente elettrica questi sono mezzi che oggi non nel 2011 oggi con la diffusione degli smart meters quindi dei misuratori smart sia di acqua che di energia nelle nostre case si stanno diffondendo anche in Italia però diciamo che stiamo andando lentamente ancora su questo e proprio recentemente ho scritto un articolo sul mio blog che se questo tema vi piace vi interessa potreste anche seguire andate su iraneivoi.it e trovate il diario di Nudge e io gli racconto delle storie proprio recentemente ho scritto un articolo che si chiama La bolletta è un progetto politico cioè partire dal redesign di una bolletta che mi arriva a casa per aiutare le persone a conoscere meglio i propri consumi e quindi anche ad attivare dei comportamenti migliori è una cosa che può funzionare bene se parte da questo punto di contatto tra chi distribuisce e chi consuma quindi tra fornitori e utenti il 14 dicembre scorso in un bel convegno organizzato da cittadinanza attiva sono venuti fuori dei dati relativi a una indagine pubblica che hanno svolto nei mesi scorsi da cui viene fuori che circa un terzo delle persone dicono la bolletta non è chiara solo il 47% riesce a conosce i propri consumi e quanto paga l'83% degli intervistati dice ma io sono interessato a capire per esempio qual è la provenienza se rinnovabile o fossile dell'energia che mi arriva e il 26,8% di loro dice io questa informazione non riesco a trovarla da parte del mio fornitore quindi sulla bolletta sempre in questo convegno una cosa molto interessante che è venuta fuori da parte di una relatrice in Iverse della Valle è l'uso degli energy caffè cioè la possibilità di inventare dei momenti in cui un'associazione su un territorio invita e coinvolge i cittadini nel dare delle indicazioni e delle informazioni anche su come si legge una bolletta visto che molti di noi la trovano davvero poco poco chiara su questo ci sono in Italia dei progetti anche belli interessanti visto che oggi abbiamo abbiamo molto bisogno di rendere tangibile l'intangibile e l'energia è una delle cose più intangibili che abbiamo intorno a noi esiste anche dal 2019 questo osservatorio italiano sulla proprietà energetica che di fatto si impegna anche nel cercare di capire come migliorare le condizioni di disagio di tante persone che vivono un disagio di come dire non di rapporto ma proprio di convivenza con il calore quando ti devi riscaldare d'inverno o con l'eccessivo caldo di quando d'estate lo soffri e questo è un altro tema immenso cioè la nostra incapacità di raffrescarci con modalità che non siano soltanto l'aria condizionata e che tra l'altro diventerà sempre più un indicatore della della nostra povertà e dei nostri disagi sociali perché non tutti potranno permettersi effettivamente l'aria condizionata io nel 22 ho lavorato su un format educativo che si chiama Energia messo in piedi da un'associazione che si chiama Socialize e visto che qui stiamo parlando di educazione e di progetti educativi abbiamo inserito dentro questo format che esiste da tanti anni proprio un'area un'area Nudge con l'attivazione di un diario di classe di un'analisi del contesto locale per aiutare le persone non soltanto a fare un'esperienza non solo cognitiva ma anche emotiva di conoscenza dell'energia ma anche attivare dei comportamenti a casa invece di vivere questa esperienza soltanto come un'attività di accrescimento della conoscenza a scuola comunque potete trovare tutto andando su energiadi.it se aveste voglia di approfondire per quello che riguarda invece l'acqua un caso di successo particolarmente che mi ha particolarmente impressionato riguarda la città di Cape Town che si è salvata nel 2018 dal disastro dalla chiusura dei rubinetti totale quindi dal collasso idrico proprio perché ad un certo punto l'amministrazione dopo aver fatto di tutto fino all'anno prima a gennaio del 18 ha detto adesso proviamoci con un nudge perché altrimenti qui ad aprile si chiude tutto e sono riusciti a salvarsi dal collasso idrico mettendo in piedi attività di gare tra scuole su chi riusciva a dimostrare il minor consumo di acqua Jingle che venivano promossi per aiutare le persone a farsi la doccia in due minuti invece che in dodici una serie di indicazioni su come anche gestire lo sciacquone del water facendo capire alle persone che se siamo in deficit non è detto che ci possiamo permettere di tirare lo sciacquone ogni volta che insomma sono riusciti a mettere in piedi un'attività di coinvolgimento di quello che si chiama engagement dei cittadini ma partendo ma mettendo in campo dei touch point cioè dei punti di contatto dei momenti di contatto con la popolazione così puntuali così efficaci così pervasivi da riuscire a salvarsi dal collasso idrico questa è una di quelle storie che se avete voglia di cercarla online c'è un bellissimo video su youtube che la racconta anche in maniera divertente però in inglese detto questo che cosa fa chi progetta Nudge sceglie un comportamento da cambiare perché l'obiettivo di un Nudge è un comportamento individua il target e quindi la persona il gruppo di persone il quartiere la città non ve lo auguro che deve attivare che si decide di attivare su quel comportamento né comprende il contesto e quindi quali sono le influenze individuali che diventano barriere o fattori trainanti che possono essere di tipo sociale che possono essere di tipo materiale individua anche i punti di contatto che un decisore pubblico o privato che sia ha per poter entrare in contatto e quindi in comunicazione con il target che ha scelto e poi progetta alla luce dei bias che conosce della creatività che ha in testa delle conoscenze che possiede dei mezzi di cui dispone quella scelta migliore per attivare il comportamento desiderato individuando ovviamente anche soggetti stakeholder di cui potrebbe aver bisogno perché questo tipo di azioni non si costruiscono da soli si costruiscono mettendo insieme una bella platea di cosiddetti portatori di interesse persone che ti aiutano nel passaparola comunicatori eccetera e che ti aiutano a implementare la spinta poi misurare e saper anche correggere il tivo via via è assolutamente necessario perché queste attività se non ne andiamo a misurare rischiamo anche di disperderne i vantaggi e quindi la potenza non so se sono stata chiara forse mi sono presa anche qualche minuto in più avevo promesso mezz'ora ma vedo che è passata più di mezz'ora quindi sei senza voce Giovanna ecco potrei dire che io potrei starti a sentire all'infinito quindi diciamo che per me è stata pure una cosa veloce no queste cose mi interessano molto anche emotivamente e allora volevo fare un commento intanto vorrei riprendere il tuo il tuo la tua la tua suggestione che diciamo di enti pubblici quando fanno delle campagne per i comportamenti dovrebbero sempre assumere qualche esperto di nudge perché tante volte eh questo lo so le campagne sono sono più a dire le cose che uno dovrebbe fare piuttosto che ad attivare dei meccanismi per cui le persone vogliono fare effettivamente queste cose allora tu quello che avevo letto nel libretto del piccolo trattato di manipolazione diceva che le persone fanno le cose che hanno deciso di fare allora quando uno diciamo è coinvolto nella decisione di fare una cosa e non la subisce delle volte questo lo puoi ottenere facendogli venire delle emozioni collegando delle emozioni a questa decisione quindi questa decisione non viene presa razionalmente ma viene presa perché una persona si è diciamo auto investita della decisione e quindi la fa e poi magari c'è anche il bias che poi tende a rifarla e tende anche a propagandarla per cui fa questo famoso circolo virtuoso delle decisioni buone un'altra cosa che ti avevo detto l'altra volta al telefono che mi ha colpito è che tante volte questo nudge o almeno quello che viene definito ora nudge è il fare mettere a conoscenza delle persone di cose a cui non avevano pensato infatti mi ero molto mi aveva molto colpito tantissimi anni fa in Francia e adesso ci sono anche in Italia questi tombini stradali dove c'è scritto il mare comincia qui perché in realtà è un'informazione non è che sia molto di più però chi lo legge dice davvero non ci avevo pensato e magari un pochettino questa cosa lo coinvolge e quindi gli fa cambiare le decisioni quindi diciamo che poi tu non l'hai detto ma questo Thaler che ha scritto il libro dell'elefante ha vinto pure il premio Nobel dell'economia nel 17 per l'economia corporeamentale per cui secondo me si è aperto un libro adesso di questo argomento sì che ovviamente hanno scritto il libro finale perché l'hanno però che praticamente fa capire qual è la differenza la differenza sono le motivazioni che però ci sono delle differenze fra venderti un prodotto e farti fare farti mangiare l'insalata invece delle cose che ti fanno male e ovviamente sono le motivazioni che sono la base di tutto questo perché le tecniche un pochettino si assomigliano perché ragionano sulle stesse parti del cervello delle decisioni quindi molto interessante mi guarderò il TEDx che non ho visto e quindi adesso lo guarderò e cercherò di leggere più cose sull'argomento mi piacerebbe appunto che chi adesso fa queste campagne soprattutto sui rifiuti di cui magari sono un pochettino più esperta quando ti dicono ah devi fare così devi fare colà te lo dicano in un modo in cui le persone si sentano coinvolte quindi le percentuali di chi segue questa spintarella gentile aumenti grazie Irene se c'è qualche domanda grazie a tutti voi ho scritto una domanda ma la rifaccio a voce sarei curioso di sapere se hai qualche dato riflessione su come è percepito il cambiamento climatico e su quali sinergie attivare per migliorare la nostra capacità di rispondere alla sfida perché nonostante tutti gli articoli che escono anche ieri ne è uscito uno allarmato veramente incredibile però di fatto non c'è percezione è bassissima la percezione della gravità del cambiamento climatico grazie allora Pinuccia è un tema immenso nel senso che il cambiamento climatico ha il difetto di chiedere comportamenti severi per ottenere qualche cosa di probabilmente migliore cioè ottenere un miglioramento in un tempo che noi mentalmente nei nostri meccanismi decisionali abbracciamo poco cioè il cambiamento climatico ti dice comincia da subito a fare questa cosa e vedrai che tra dieci anni per esempio avremo una serie di benefici eccetera e questa è una delle ragioni per cui le persone fanno molta molta fatica ad attivarsi oggi per un beneficio futuro è un bias anche questo non rientra tra quelli che vi ho raccontato però questo è un bias e poi c'è un altro problema sui cambiamenti climatici e cioè urlare numeri non serve a niente cioè tutte le tecniche di comunicazione che dovrebbero aiutarci a decidere di fare dicono quasi tutti la stessa cosa non urlare dare istruzioni operative ma non urlare gli allarmi l'allarmismo su questi argomenti anche se vero e anche se motivato non aiuta a decidere cioè io sul tema del cambiamento climatico ho una serie di idee su come si potrebbero cioè su come si potrebbe aiutare le persone a fare invece che a rimanere impietrite il famoso impietrimento che genera poi anche l'ansia climatica eccetera e sì allora la risposta è sì ci sono degli studi ci sono delle teorie si può cambiare un po' registro su come comunichiamo queste cose a mio avviso scusa vorrei intervenire su questo argomento perché in un questionario che ho mostrato durante la mia lezione parlando di economia circolare è venuto fuori che la gente intervistata metteva il pericolo del cambiamento climatico a metà classifica praticamente intorno alla pornografia infantile via internet per i bambini per cui in realtà uno addirittura la tendenza a sottovalutare cioè a non allarmarsi più di tanto poi comunque se vale quella legge del consumo elettrico siccome dicono tutti che gli altri fanno peggio di noi e che noi siamo una goccia nel mare comincia a dire ma allora poi quegli altri allora poi in Cina allora poi in paesi emergenti e uno un pochettino si responsabilizza quindi i numeri poi comunque non rendono l'idea perché dire un grado due gradi in realtà non significa niente devi far vedere delle cose apocalittiche cosa succede veramente quei due gradi quel grado e mezzo hai ragione i numeri non comunicano i numeri non comunicano noi poi sui numeri abbiamo una sensibilità talmente scarsa che se i numeri non li trasformi in unità di misura di vita vissuta non contano proprio niente non contano niente hai ragionissimo e quindi anche sulla mobilità un altro tema immenso che ho cominciato ad affrontare con Sottosopra Comunicazione un'agenzia con cui costruiamo campagne di comunicazione ispirate al Nudge e con loro è da tempo che stiamo ragionando sul fatto che proprio i numeri non servono assolutamente a niente scusa se posso un secondo sì certo io sono convinta che se non adottiamo uno stile di vita completamente diverso rispetto a quello che stiamo portando avanti finiamo veramente in una situazione di non ritorno e spesse volte sono un po' trattata come una veleitaria e ritengo che dovremmo proprio partire nel quotidiano noi nel piccolo nei consumi cambiare noi il mercato con le nostre scelte però come comunicarlo come convincere hai qualche suggerimento qualche test o qualcosa vabbè non sono cose cioè nel senso che non è una cosa che si può è un fatto culturale adesso è un fatto culturale sì no nel senso sono completamente d'accordo con te sul fatto che sono i comportamenti di ogni giorno quello che dovrebbero quello che dovrebbe essere il focus tra virgolette di una campagna il come farlo cioè non è una domanda a cui posso rispondere adesso bisognerebbe vedere ma ritieni che l'esempio il comportamento individuale comunque partendo dal piccolo dal basso possa essere una misura sufficiente secondo me sì le persone hanno bisogno di cose semplici cioè naggio significa semplificare le scelte delle persone quella famosa architettura delle scelte semplifica mela quanto più me la semplifichi tanto più io sarò in grado di fare A e poi B e poi C quanto meno me la semplifichi e tanto e quanto più me la fai apparire immensa stile montagna da scalare tanto più io probabilmente ti giro le spalle e faccio altro perché per me è troppo quello che mi stai chiedendo quindi riuscire a come dicono gli psicologi a operazionalizzare i singoli passaggi anche quello è già un nudge certo grazie se posso oggi è stato disattivato si sente? si stavo pensando in relazione a questo l'immaginazione credo che su questo dovremmo puntare penso ad esempio a quanto un film possa operare efficacemente proprio attivando delle emozioni io sarà che amo molto il cinema il teatro e la scrittura e credo che questo si effettivamente dovremmo forse dare più importanza all'immaginazione di quanto abitualmente facciamo questa così è una mia piccola notazione mentre invece scusate spostavo un attimo l'attenzione per una mia curiosità il fatto del legame tra paternalismo liberale e femminismo io devo dire non so se questo distoglie l'attenzione però forse vale la pena un attimo di rifletterci perché io devo dire che proprio sento uno simolo qua nel senso che paternalismo liberale già sono due parole quasi in contraddizione perché paternalismo per definizione è proprio una un'ideologia in cui c'è fondamentale il concetto di autorità di autorità paterna eccetera liberale invece è tutta quell'ideologia che spinge su quello che è il tema dell'autonomia la valorizzazione della libertà quindi già questo ma soprattutto penso in relazione alle donne perché le donne hanno sempre combattuto contro il paternalismo identificato anche col patriarchalismo quindi è difficile adesso però ci si può provare a fare i conti a vedere il buon volto del paternalismo perché dobbiamo tenere conto che questa è un'eredità storica cioè che il paternalismo è stato proprio il ciò contro cui abbiamo sempre ma non è il tempo di dirle e diciamo che il femminismo per definizione è antipaternalista e quindi rifiuta queste forme di autorità e parla dei diritti e dell'autonomia è interessante però invece il fatto gentile perché allora invece gentile sposta l'attenzione su un tema che sta molto al cuore all'etica femminista che è il tema della cura e lì allora il tema della gentilezza rientra potentemente perché gentilezza significa rispetto attenzione all'altro ecco quindi non lo so io ho avuto queste suggestioni tra l'altro la relazione è bellissima i miei complimenti ma forse darebbe un po' anche la pena di interrogare noi stesse dato che è stato collegato il femminismo ecco in che misura noi possiamo sentirci partecipi di questo o forse anche avvertire che c'è qualche cosa che dovremmo chiarire meglio noi stesse allora ti ringrazio per la per la ricchissima osservazione per quello che riguarda l'immaginazione sì allora bello che tu l'abbia detto spondi una porta aperta è una parola che uso spesso e che e di cui credo che ci sia un gran bisogno di riappropriazione della nostra capacità di immaginare perché se non riusciamo più ad immaginare è difficile credere o sognare in qualcosa che possa cambiare visto che oggi abbiamo tanto bisogno di cambiare e poi per quello che riguarda il paternalismo libertario sì Taler e Sunstein sono e si definiscono dei paternalisti libertari dove laddove le due parole per loro non sono contraddittorie perché lasciare all'individuo la libertà di decidere è mette tra virgolette nelle condizioni chi progetta la spinta gentile anche di di operare in una in una condizione di estrema democrazia di risposta eccetera non mi sono mai interrogata sul tema del femminismo dell'ecofeminismo in questa dimensione ci farò un pensiero ti ringrazio per questo pungolo che mi hai dato e poi ti ringrazio anche per aver parlato di gentilezza perché effettivamente oggi sto scrivendo un piccolo saggetto su questa cosa che uscirà in un libro tra qualche mese sulla comunicazione della sostenibilità laddove la parola gentilezza effettivamente intesa come quella miglior capacità o diversa capacità di riuscire a prenderci cura di noi e degli altri deve diventare una parola magica un passepartout che oggi può aprire più porte di quanto prima in passato non riuscivamo a pensare di aprire quindi grazie grazie a te grazie a te scusate volevo fare un piccolo commento che deluderà sicuramente Luisella e forse anche Irene cioè la parola nagge non contiene la parola gentile quando è stato tradotto in Italia l'abbiamo messo alla spinta gentile in realtà nagge vuol dire spintarella colpetto che vuol dire una cosa molto limitata molto cioè non è uno spintone ma uno magari è un po' disattento gli dai una spintarella evidentemente in Italia spintarella non si poteva mettere perché non ha giustificato colpetto era brutto e ci hanno messo gentile io sono molto contenta perché io sono una fautrice della gentilezza perché me la gentilezza è la civiltà contrapposta invece alla non civiltà cioè la gentilezza è quella cosa che la civiltà ti ha diciamo ti ha ti ha ricoperto di questa gentilezza c'è chi la pratica di più c'è chi la pratica di meno secondo me la dovremmo praticare tutti tantissimo come dice quel modo di dire in maniera insensata e a caso perché comunque non fa mai male quindi quando hanno tradotto il naggio ci hanno messo gentilezza io sono molto contenta e quindi è una cosa anche nostra che secondo me ci distingue da tutto il resto del mondo grazie Pinuccia condivido in pieno bellissimo bellissima se non ci sono più domande io direi che potremmo nostro Enzo non dice niente sull'energia che è molto interessante a Enzo gli dico che le bollette non si riescono a leggere così le persone non possono confrontare le offerte e si confondano ancora più mi sono stupita che Irene abbia detto che solo il 47% non riesce a leggere la bolletta io probabilmente sono di questi perché ho delle difficoltà enormi ma credo che la ridondanza il 47% riesce sa più o meno quanto paga il 28% solo il 28% dice che la bolletta è chiara vabbè questi li vorrebbero un disastro Giovanni un disastro non sa come fanno perché la bolletta è fatta per non essere capita appositamente infatti la ridondanza delle informazioni le informazioni ci sono tutte ma la ridondanza è fatta apposta per non per non percepire la semplicità che uno invece richiederebbe ovunque c'è un amico di Maria Rosa Lonzoni che può aiutare a leggere le bollette in modo completo una volta mi aveva invitato io in effetti sono un po' pigro su questo tema per quanto riguarda i discorsi fatti in relazione all'energia direi effettivamente che è stato illuminante gli esempi certamente molto interessanti anzi invito Irene qualora ne avesse degli altri a in qualche modo indicarceli perché potrebbero venire diciamo molto bene per certi incontri anche ad esempio allo Zenzero che sono molto interessati ma noi tutti come il Costituto lo siamo per cui più esempi ci sono e più diciamo la cosa può diventare efficace va bene va bene grazie grazie a voi grazie a voi tutti grazie a voi tutti allora grazie possiamo salutare Irene ringraziarla per questo bellissimo grazie a voi per la partecipazione le domande gli stimoli grazie grazie davvero